Altra bella citazione di Galileo è questa che riguarda il linguaggio, il linguaggio matematico e geometrico in cui è scritto il libro dell'universo. Dice Galileo, la filosofia intende la filosofia naturale, cioè la fisica, la scienza. È scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto dinnanzi agli occhi. Io dico l'universo, questo libro è l'universo. Ma questo libro non si può intendere se prima non si impara a intender la lingua e a conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli, questo libro, è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi e altre figure geometriche senza i quali mezzi, è impossibile intenderne umanamente parola. Senza questi è un aggirarsi vanamente per uno scuro laberinto.